Airbnb racconta quella che è una storia di successo nel mondo del turismo, turismo e innovazione ovviamente. Per quanto riguarda l'Italia, che è diventato il terzo paese al mondo su Airbnb, come ho detto in conferenza siamo soltanto all'inizio. Per ora l'Italia ha un PIL dove il 10% deriva dal turismo, ma potrebbe essere molto molto di più. Perché dico questo? Proprio perché se guardiamo a quella che è la popolarità di luoghi stupendi della nostra penisola, come il Sud, come la Sicilia, come la Puglia, siamo ancora a livelli molto bassi. Quindi c'è davvero una potenzialità infinita in termini di destinazioni che possono essere promosse e quello che vediamo per quanto riguarda Airbnb è un match molto forte tra quella che è la richiesta del mercato, soprattutto per quanto riguarda i millennials, le nuove generazioni, che vogliono viaggiare in luoghi autentici, unici, diversi da quelli dove tutti gli altri vanno, e quella che è il nostro paese. Perché il nostro paese è proprio fatto, è molto frammentato, è fatto di questi luoghi unici, speciali, particolari, che spesso insomma prima non si potevano magari visitare facilmente. Grazie ad Airbnb oggi si può dormire anche in luoghi dove non ci sono hotel, probabilmente non ce ne saranno, perché non ha senso magari aprire un hotel. Si può dormire in piccoli borghi, si può dormire in luoghi stupendi del Sud. Abbiamo proprio da poco lanciato per esempio un progetto legato a Civita di Bagno Reggio, dove stiamo lavorando per renderlo insomma patrimonio dell'UNESCO. Questo per esempio è proprio uno di quei luoghi che potrebbe in qualche modo vivere di turismo, lo fa già, in maniera sostenibile, senza necessità magari di avere strutture ricettive costruite apposta, proprio perché è un luogo così speciale e unico. Portano tantissima innovazione e tantissimo cambiamento, ovviamente preoccupano da un lato, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, si parla di macchine che si guidano da sole, e ovviamente si ha paura, si ha in qualche modo paura di questi grandi sconvolgimenti. Dall'altro lato la verità è che, sì da un lato sono lontani ma dall'altro neanche tanto e la seconda grande verità è che queste cose in qualche modo aprono tantissime opportunità. La bilancia si spera sia positiva tra i lavori che in qualche modo si perderanno e quelli che verranno creati. La verità è che ovviamente quello che è importante in qualche modo fare è cercare di interpretare quelli che sono in qualche modo i segnali del cambiamento e di provare ad andare in questa direzione. Il cambiamento e il futuro non si può combattere, si può interpretare e si può in qualche modo provare a gestire. Ecco perché secondo me la sfida della mia generazione, dei giovani, è proprio questa, è quella di cercare di capire in anticipo quelli che saranno i trend, di provare a innovare facendoli in maniera responsabile. Airbnb ovviamente ha portato uno sconvolgimento nel mondo del turismo e ovviamente ha dovuto confrontarsi con quelle che erano i problemi, le problematiche delle città in cui si è andato a collocare. La nostra credo insomma caratteristica che forse anche ci distingue magari anche un pochino da altri è quella di essere stati sempre molto responsabili e aperti a dialogare, di andare a bussare alle porte degli amministratori locali prima che loro venissero a bussare alle nostre. Quindi l'idea è di essere presenti, responsabili e di voler risolvere il problema, di voler risolvere quelli che sono i cambiamenti dettati dalla tecnologia e crediamo insomma che questo possa essere anche un po' un esempio di come si possa gestire questo cambiamento e queste opportunità che vengono a crearsi. Sono un persona un po' come me, io sono laureato in lettere, ho voluto all'inizio insomma appena finita la mia carriera universitaria, volevo lanciare una mia azienda e l'ho fatto, era insomma un e-commerce internet, ho viaggiato in diversi luoghi, adesso sto lavorando qui in Italia ma sto studiando in Svizzera perché sto finendo un MBA, ho lavorato in Germania, poi sono andato a lavorare in Danimarca, sono persone che non hanno l'idea di avere un posto fisso, non ce l'hanno mai avuta se fosse mai stata una possibilità e hanno voglia di in qualche modo inventarsi e essere artefici del proprio destino. Questa è la forza, dipende dal fatto che i nostri genitori ci hanno educato così, ci hanno detto tutto è possibile, scegli quello che vuoi fare della tua vita, sei in una situazione comunque di relativo benessere, non c'è la guerra, c'è comunque da mangiare e puoi studiare, quindi fai del tuo destino quello che vuoi e quindi i VW workers sono persone che vogliono inventarsi, che vogliono creare le loro opportunità, che vogliono in qualche modo con le loro mani cambiare il futuro e il mondo che li circonda.